come ginecologo ho sempre desiderato tutto quando moriva un desiderio e mi lasciava solo tra imbroglie ed errori ne nasceva un altro se mi arrugginivo come ginecologo ecco che diventavo dentista e attendevo che la poderosa mano della nuova professione mi rendesse ricco già ero ricco avevo delle terre ma feci un affare con la mafia che mi ha straziato l'intera proprietà che grave illusione la mia vita oppure è stata un degno olocausto per la mia scarsa evoluzione folli corse in porscio per giungere ai traghetti corse esasperate della mente per soddisfare altri desideri infine la mia mente esausta ha richiamato l'ictus tre anni di ictus in cui ho smesso ogni infidansia terrena e poi il trapasso dove ho fatto queste riflessioni